Tra figli a casa, genitori da assistere e nipoti a cui badare, le nonne di oggi si fanno praticamente in quattro. In occasione della 22esima giornata internazionale dell'anziano promossa dall'ONU, l'Istat fotografa chiaramente la situazione della nonna italiana che in 50 anni ha visto triplicare le sue incombenze familiari. Nel 2010 e 2011 l'Istituto di Statistica ha analizzato la condizione delle nonne in Italia in tre momenti, nel 1966, nel 1999 e al giorno d'oggi. Risultato, la nonna nel 66 viveva con il coniuge, non aveva genitori a carico perché all'epoca l'aspettativa di vita era più bassa, i figli si erano sposati e le figlie e le nuore erano spesso casalinghe, così potevano accudire i loro bambini autonomamente. Nel 1999 la nonna viveva ancora con il coniuge ma aveva almeno un genitore di cui occuparsi e inoltre figli e nuore ormai lavoravano e dunque avevano bisogno di aiuto per i figli. La nonna di oggi invece, oltre al coniuge, è spesso ancora un figlio a casa, assiste i genitori ultraottantenni, aiuta i figli a gestire i nipoti anche perché i nidi sono insufficienti e una su quattro di queste ha ancora un lavoro.